Abbiamo discusso della sesto del domani, delle proposte, delle idee e su quello approfondendo abbiamo costruito il programma che stasera vi abbiamo illustrato ma che vogliamo far vivere nelle prossime settimane di campagna elettorale in città, nelle settimane che ci separano dal prossimo appuntamento elettorale per sesto fiorentino. Il programma non è concluso, non è finito, non è statico. Le prossime settimane speriamo e siamo convinti di continuare a ricevere spunti, riflessioni anche critiche che servono sempre per provare ad affinare e a migliorare gli aspetti. Anzi l'invito che faccio anche a tutti e a tutti voi se avrete voglia di contribuire e anche di farci avere un'opinione, un contributo, uno spunto. Arrivando questa sera mi è stato consegnato un segnalibro a forma di telecomando, di televisione internet, su questo ci abbiamo un po' giocato anche sulla comunicazione per la prossima campagna elettorale a partire dallo slogan che abbiamo scelto, la nuova stagione. Su quel segnalibro però troverete un QR code e tutte le informazioni utili per scaricare dal sito il programma e quindi spero che lo facciate e che ci facciate avere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane come è stato così nei mesi passati, spunti, idee, riflessioni per poter migliorare ancora di più questo programma. Per una campagna elettorale ci vogliono anche risorse.